Grazie Maria Giovanna Lorena. No all'abolizione dei voucher lavoro per bar e ristoranti. Lo chiede la FIPE, l'associazione di Confcommercio che rappresenta i gestori di pubblici esercizi e che chiede di poter usufruire dei beni lavoro per far lavorare camerieri, cuochi e barissi nei picchi stagionali. Il presidente Lino Enrico Stoppani. Rimane la loro utilità ed è assolutamente sbagliato eliminarli perché evidentemente verrebbero meno il motivo per il quale giustamente erano stati istituiti. Vanno certamente regolati e disciplinati in modo diverso ma eliminarli sarebbe un gravissimo errore. In questo paese c'è un problema di flessibilità per la gestione di alcuni rapporti di lavoro in particolare per quelli di tipo occasionale, difficilmente programmabili e di durata limitata anche in termini di ore perché in questo paese c'è un problema di lavoro sommerso e di lavoro nero da far emergere contrastando l'illegalità e poi perché bisogna investire su alcune categorie di lavoratori come gli studenti, i pensionati, i lavoratori interessati a molti datori sociali che hanno interesse evidentemente di avere un reddito integrativo rispetto a quello che hanno.